Con il piatto risotto con la zucca, Ada di Berardino vince il memorial donato di Febo all'hotel Miramare di Città Sant'Angelo. Davvero una serata particolare, perché? È una serata speciale perché dobbiamo ricordare questa persona che è una persona speciale, io ho parlato con il genero, che l'ha ricordato come una persona stupenda e come un nonno speciale. Per venire al piatto, i segreti di questa ricetta risotto con la zucca? Allora, una buona zucca che è coltivata da noi perché abbiamo la campagna, olio extravergine di oliva, dopo il parmigiano, latte, un pochettino di latte alla fine per amalgamare e poi la cipolla. Premio della critica per Concetta Pagliarella, meglio nota come Nenni sui teleschermi di Canale 5, Uomini e Donne. Che esperienza è stata al campionato della cucina per Casalinghe? È stata la prima esperienza ma a questo punto sono stata premiata per la critica e spero di fare una lunga scesa anche nel settore dell'arte culinaria. È stata una serata divertentissima. Frittata alla contadina, ma come hai fatto questo piatto? Molto semplice, con del pecorino, del buon pecorino, patatine fritte, con dell'aglio trito, molto semplice, olio e basta. Poi ovviamente ornato con del pane tostato, imbevuto all'olio. Un premio da dedicare a chi insomma? Il premio, il premio... La tua dolce metà che è qui presente? Quello sicuramente, sempre. Ci alleniamo insieme, mangiamo insieme, facciamo tutto insieme, quindi è sottointeso che la prima dedica è a lui. Gli abruzzesi però vogliono sapere quando tornerai a Uomini e Donne? Noi speriamo presto.